C'erano una volta tre ragazze che frequentavano il centro storico. Oltre ad essere intelligenti, le tre ragazze erano anche molto carine. A tutte e tre venivano assegnati compiti difficili, a volte rischiosi. Io le ho portate via e ora lavorano per me. Il mio nome è Santa Claus. Ragazze, c'è una missione per voi. Ragazze, è veramente una missione difficile. Abbiamo bisogno di un mutuo. Lì si deve chiamare il mutuo. Music Lab, potete senti! Anche il gruppo Spoon è con voi. Anche quest'anno saremo con voi. Se ci sono bambini, esportiamo Foggia a cielo. Anche noi ci saremo, colpito e sorriso, vero? Sì. Ci siamo anche noi, venite, vogliamo insieme. Quest'anno cico amici saranno con voi. A prati dal latte, quest'anno sarà ancora con voi. Handle of Street, anche quest'anno sarà con voi. A presto! A presto! Ciao! Grazie.